Il tuo fine anno ha annunciato un referendum per Napoli, città totalmente autonoma? Assolutamente sì, noi siamo per l'unità nazionale, l'Italia una indivisibile che valorizza tutte le autonomie, se altri vogliono provocare strappi incostituzionali, noi nel solco della Costituzione rilanciamo non autonomia differenziata delle regioni ma autonomia totale delle città, come c'è da Napoli. Napoli è stata la prima città che ha fatto una delibera per città autonoma, sta andando in quella direzione, a questo punto entro l'anno faremo un referendum molto preciso, puntuale, perché questa città più è autonoma più avrà ricchezza, uguaglianza e sviluppo.